Il 25 settembre voteremo per il rinnovo della Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica con la legge elettorale chiamata Rosatellum e con i cambiamenti introdotti dalla riforma costituzionale del 2020 che ha tagliato il numero dei parlamentari, 400 per la Camera e 200 per il Senato. L'Italia è stata suddivisa in collegi elettorali che comprendono aree geografiche specifiche, due i tipi di collegi, gli uninominali e quelli plurinominali. Gli uninominali sono 147 per la Camera e 74 per il Senato. In questo tipo di collegi si presentano i singoli candidati l'uno contro l'altro. Il collegio plurinominale invece prevede la presentazione di liste di candidati ed è associato al concetto di elezione proporzionale, ovvero gli eletti delle singole liste vengono scelti in proporzione ai voti ricevuti, 12 poi i collegi appartenenti alla circoscrizione estera. I restanti parlamentari quindi 245 per la Camera e 122 per il Senato vengono eletti con il sistema proporzionale. Ogni collegio plurinominale rappresenta un territorio che è la somma dei collegi uninominali più piccoli. Il termine plurinominale vuol dire ovviamente che si presentano più candidati, il cosiddetto listino bloccato. La somma dei voti ricevuti dai singoli partiti o coalizioni in una complicata ripartizione determinerà poi gli eletti. L'elettore riceverà quindi due schede identiche, una di colore rosa per l'elezione della Camera e una di colore giallo per il Senato. Non sarà valido il voto disgiunto, ovvero decidere di tracciare un segno sul nome di un candidato uninominale e sul contrassegno poi di una lista ad esso non collegato. Ogni elettore potrà dunque scegliere un tandem inscindibile tra partito con la sua lista bloccata e candidato uninominale che quel partito e la sua eventuale coalizione sostengono.